La Camera di Commercio è stata socia di AES per diversi anni. Siamo usciti dalla compagine societaria complice le normative che hanno portato a dover razionalizzare le partecipate pubbliche. Non appena però il legislatore ha reintrodotto la competenza ambientale tra le funzioni e le prerogative della Camera di Commercio sia la Giunta che il nostro Consiglio hanno ritenuto di riallacciare una collaborazione con l'Agenzia. In effetti gli organi camerali hanno approvato un programma di attività 2018-2019 che tra le altre prevede il patrocinio per l'edizione 2018 e anche 2019 per la settimana della bioarchitettura e della sostenibilità ambientale. D'altra parte l'ambiente ha un impatto notevole sulla vita delle aziende e un ente come la Camera di Commercio che ha tra le sue funzioni, quella direi la funzione principale, quello di tutelare gli interessi delle imprese non poteva non essere sensibile. A margine, sempre nell'ambito della collaborazione tra Camera di Commercio e AES, ci sarà una linea dedicata allo sviluppo dell'osservatorio a palti pubblici della provincia di Modena, tenuto conto che la legalità rappresenta uno degli elementi essenziali e quindi speculare rispetto alle tematiche ambientali. L'ambiente è importante e rileva 360 gradi, quindi fare cultura anche sotto il profilo dell'affidamento degli incarichi e degli appalti credo che possa completare il percorso che Camera di Commercio e AES hanno in animo di sviluppare insieme.